Siamo qui per fare una discussione rispetto ai primi sei mesi, lo stato di salute dell'azienda. Sotto il profilo economico mi pare che la semestrale, cioè i primi sei mesi di lavoro, ci diano dei dati confortanti. Sotto il profilo finanziario ACAM ha più ricavi e soprattutto ha diminuito i costi di gestione. Dico soprattutto perché questo è quello che incide di più sul bilancio dei primi sei mesi. Abbiamo ridotto sostanzialmente tutti i costi che avevamo messo in discussione anche nel tavolo con le organizzazioni sindacali. C'è una diminuzione assoluta del costo del personale, ci sono nell'ultimo anno circa 90 unità lavorative in meno. Come sapete nell'accordo c'è il blocco del turnover, i pensionamenti sono circa 93-94. C'è una riduzione corposa di tutte le parti, diciamo straordinario, reperibilità. C'è una riduzione dei costi di automezzi sostanzioso, una riduzione quasi del 25% degli stessi automezzi. Spese telefoniche, carburante. Abbiamo cercato di tenere da un punto di vista gestionale tutto sotto controllo. Abbiamo risparmiato anche sotto il profilo della dirigenza da una parte circa oltre il 50% dei costi rispetto al 2008 e sotto il profilo degli amministratori quasi il 60% dal 2008 ad oggi. Questa trattativa con il gruppo ERA a che punto è? Lo può dire oppure è ancora segreto? No, non c'è niente di segreto. Sono questioni molto delicate che non sfugge a nessuno la delicatezza del momento. Noi siamo consapevoli e ottimisti perché il lavoro che, come dicevo prima, è stato fatto è un lavoro importante. Sono convinto che nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ci potranno essere degli sviluppi, noi crediamo e sosteniamo positivi, forti del lavoro che abbiamo fatto. I contatti di solidarietà sono un tassello, un mosaico molto più complesso. In questi mesi c'è stata un'inversione di tendenza da parte dei comuni, dei soci che prima venivano additati come non responsabili in quanto avevano anche delle esposizioni, dei vittori di un certo tipo, invece c'è stata un'inversione di tendenza forte. C'è stata una riorganizzazione forte all'interno della società che non è conclusa, assolutamente non è conclusa, ma in una situazione di estrema difficoltà come era l'azienda, logicamente le attenzioni erano più sotto dal punto di vista della sopravvivenza dell'azienda stessa. Io credo che in un lavoro complessivo si possa chiedere anche la stipula dei contatti di solidarietà con uno scopo soltanto, che è quello di salvaguardare tutti gli occupati di HACAM, che non vuol dire il contatto di solidarietà o il preambolo del licenziamento, anzi è al contrario e forse quando si affronta un ragionamento bisognerebbe essere più aperti e più raccontare veramente come stanno le cose. Dopo alcuni mesi in cui abbiamo accettato l'invito a lasciare lavorare il management e l'amministrazione in vista di proposte, di rilancio e di salvezza, vogliamo capire appunto dove siamo arrivati, sia dal punto di vista della gestione quotidiana, perché abbiamo notizie gravi sul stato di abbandono, del resto la stessa sindacata, la CGL ha scritto, messo nero su bianco, insomma una lamentela sull'abbandono della gestione quotidiana e ordinaria e vogliamo soprattutto capire quali sono le prospettive. Da mesi ci viene detto che siamo a un passo dall'accordo con ERA, speriamo che sia così e soprattutto speriamo che sia a condizioni positive, perché noi siamo d'accordo che l'aggregazione sia una risposta ma deve avvenire a condizioni favorevoli per il territorio e per i lavoratori. Vogliamo avere chiarezza sulla questione dei contratti di solidarietà che è stata gestita secondo me molto male, nel senso che non si è inquadrata in un progetto vero e concreto e credibile di rilancio, vogliamo sapere soprattutto quali sono gli aspetti che oggi determinano la salvezza o meno dell'azienda, la situazione finanziaria, il rapporto delicatissimo con le banche, siamo alla terza moratoria, quindi al terzo rinvio del debito che al momento ci è stato ancora dato ma accumulando ovviamente interessi passivi. Insomma vogliamo fare un quadro della situazione perché questa vicenda, come è noto, oltre a riguardare più di mille lavoratori, riguarda la società che eroga i principali servizi ai cittadini, quindi gli interessa direttamente tutti i cittadini della provincia.